Perché ci hai trascinati qui da Mezzomundo? C'è un lavoro che ci aspetta. Riusciremo a entrare e uscire prima che se ne accorgano. È una follia. No, sono 100 milioni di dollari. Io ci sto. Uno è un ex federale che ha passato 5 anni sotto copertura. L'altro, un professionista del crimine. Li troviamo, li prendiamo e li riportiamo indietro. Non dobbiamo mai, mai lasciarli entrare in macchina. Siamo al primo posto nella classifica dei ricercati. Sei finito. Grande sbaglio. Siamo passati da missione impossibile. A missione impensabile. Non è cambiato niente. Prima o poi finiremo dietro le sbarre. Oppure sepolti in un fossato da qualche parte. Ma non oggi. Fast and Furious 5 Da mercoledì 4 maggio al cinema.